In un anno di media consumiamo oltre 34 miliardi di metri cubi di acqua dolce e di questi il 51% va in irrigazione, il 21% in industria, il 20% per uso civile, il 5% va in idroelettrico e il 3% nella zootecnia. Di questo fiume d'acqua il 40% si perde per strada, quindi investire per ridurre gli sprechi già sarebbe un guadagno. In agricoltura c'è un ampio spazio di crescita, secondo la Coldiretti con le cosiddette colture di precisione si può risparmiare fino al 70% della risorsa acqua, ma anche le produzioni idro o acquaponiche hanno un'alta efficienza. Bisogna pure difendersi con l'acqua dolce dal cuneo salino per evitare che l'acqua di mare risalga dalle foci dei fiumi con danni a produzioni e colture. Poi ci sono le opzioni desalinizzazione, prendendo l'acqua dal mare e depurazione per riutilizzare le acque reflue in agricoltura o in industria. I ghiacciai, serbatoi naturali che alimentano i fiumi padani, si stanno liquefacendo per la crisi climatica, quindi dobbiamo sempre più affidarci alla pioggia per le nostre riserve. Oggi raccogliamo circa l'11% dell'acqua piovana, 50 anni fa era il 15%. La mancata manutenzione degli invasi si paga con la minor raccolta d'acqua. Ora ci sarebbe il PNNR che però all'acqua dedica circa il 2% delle risorse.